La stanza di papà Trovate un lavoro, va? Piacere Rosario Nicola Bruno Questi sono gli orari di entrata e uscita dalla casa di mio fratello Se li rispettate non dovreste mai incontrarli Ma ti rendi conto della gravità della situazione? Questi potrebbero essere malintenzionati, ladri, terroristi, zingari, stupratori Alturi! Mamma, basta con questa maniata alla salute! No, non c'è bisogno a Roma della maniata alla salute! Fa calda a Roma! Pronto? Pronto, mamma! Tanti auguri a te! Auguri! Prossimo! Grazie per la visione!